E ora ci spostiamo sull'altro fronte, quello a due facce del centrodestra, che si presenta con due candidati sindaci. Per Gabriele Melogli voce a Valentina Codella, candidata nella lista di Forza Italia, una giovane psicologa e che affronta con entusiasmo questa avventura elettorale. Questo entusiasmo è nato da una necessità, quella di ridare dignità ad Isernia, che significa creare un ambiente confortevole, sia sociale, economico che culturale, per permettere ai nostri giovani di poter restare nella nostra terra e di non avere la fuga dei cervelli, e di non costringerli ad andare fuori per una necessità, una dignità lavorativa. Deve essere una scelta e non una costrizione. Melogli può ridare, può ricostruire Isernia, perché Melogli ha le capacità e soprattutto ha delle amministrazioni che già ha effettuato in passato. Questo significa esperienza, esperienza e cultura ci permette di risalire, io dico, la china. L'altra faccia del centrodestra, a vocazione civica, è quella di Cosmo Tedeschi. Anche per questa coalizione il PNRR è un'occasione da non perdere, una preziosa fonte di lavoro, come afferma l'avvocato Reste Scurti. Il PNRR prevede un piano di assunzione, quindi di occupazione, a livello dell'amministrazione, che è imponente, cosa che non è mai successa prima di oggi all'interno delle norme sovranazionali, nazionali, che agiscono sugli enti locali. Chiaramente si possono assumere negli ambiti del PNRR, si può assumere tanto con dei bandi pubblici proprio in quegli ambiti. È importantissimo perché così si rivaluterà l'occupazione e si darà la possibilità ai giovani, soprattutto attraverso dei bandi pubblici, di rimanere a Esernia, di restare a Esernia con un lavoro effettivo, a tempo determinato e anche a tempo indeterminato. È previsto pure per la dirigenza. Cioè basta leggere e capire quello che prevedono queste norme per poter formare delle graduatorie che sono importanti per rilanciare il settore. Per questo quindi è un rilancio, è una rinascita sotto questo profilo. Altra cosa importante è l'imprenditoria, perché ci sarà la zona PIP di Esernia-Miranda che sarà dove si andranno a insediare numerosissime imprese, sono anche lì centinaia di posti di lavoro e poi la cosa ancora più che riteniamo fondamentale è difendere l'ospedale di Esernia.